Il professor Matteo Di Biase, che cos'è la polipillola? Ma è la nuova formulazione farmaceutica che comprende tre tipi di farmaci che comunemente vengono somministrati con tre pillole differenti, quindi questa associazione ha la possibilità di favorire l'aderenza del paziente alla terapia, nel senso che invece appunto di prendere più pillole magari più volte nella giornata, ne prende una sola e chiaramente ha lo stesso effetto della somma delle tre pillole, quindi è una nuova soluzione terapeutica che favorisce la possibilità dei pazienti di curarsi adeguatamente. È il futuro, probabilmente molti farmaci che adesso vengono dati in maniera singola potranno essere uniti e credo che i pochi polipillole ancora presenti già probabilmente aumenteranno in un prossimo futuro. Grazie dottore.